Benvenuti a questa serata promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con il forum vicentino Acqua Bene Comune. Questa sera vorremmo riproporre l'argomento Acqua, l'abbiamo già affrontato in una riunione precedente all'interno di questo ciclo di incontri che il Comune sta promuovendo sui beni comuni e vorremmo approfondire l'argomento sotto più punti di vista, vorremmo approfondirlo anche in base a quello che è stato l'esito dei referendum dell'anno scorso che non tutti saranno forse ben informati e sono stati disattesi in più maniere. Bene Comune Acqua per essere tale deve essere tutelato e partecipato dalla cittadinanza e per essere partecipi bisogna essere anche informati e anche con questo spirito che cerchiamo di veicolare più informazioni possibili. Lo faremo, ci aiuterà a approfondire questo argomento Luca Martinelli, giornalista di alta economia e scrittore del libro L'acqua non è una merce e poi affronteremo, anzi prima affronteremo con il professore Artissimo del centro di riforma di Novoledo il discorso più generale legato al ciclo integrale dell'acqua perché quanto trattato dei referendum è una piccola parte che riguarda il servizio idrico integrato, piccola parte ma importantissima perché riguarda direttamente il servizio al cittadino. Faremo una panoramica più vasta sul ciclo integrale dell'acqua con il dottor Artissimo. Io lascio la parola all'assessore a Maza per una presentazione e poi partiremo direttamente con il professor Artissimo e vedremo di affrontare i due argomenti.